Il Catania abbia intenzione di mollare la presa, malgrado la distanza dall'ultima piazza utile per la qualificazione all'Europa League, sia ormai praticamente incolmabile, si sbaglia di grosso. E' questo il messaggio che i rossazzurri hanno voluto dare domenica scorsa nel match sul campo del Milan, ed è sempre questo che hanno affermato con forza nel corso della settimana. Chi crede quindi che domani il Catania avrà pietà del Siena e completamente fuori strada? Anche perché i rossazzurri non vincono da cinque partite, fatto insolito per quanto espresso dalla squadra di Marani in questa stagione, e avranno grande voglia di tornare al successo dopo un mese e mezzo di astinenza. Inoltre c'è ancora un record di punti in Serie A che dopo essere stato eguagliato deve essere battuto e in realtà può anche essere letteralmente sbriciolato. Il Catania quindi è ancora vivo e in questa fase finale del campionato può togliersi tante altre soddisfazioni a partire dal match di domani contro una squadra di Iachini, pur non potendo più a Mila di arrivare nelle primissime posizioni della classifica come forse avrebbe meritato. Le assenze per squallifiche di Anduca, Berlusci e Marchese non preoccupano più di tanto Maran, che nel frattempo ha recuperato Alvarez e quindi avrà comunque la possibilità di schierare tre quarti della difesa titolare. Proprio il rientro del terzino destro del Catania dovrebbe spingere il tecnico da soggiorno a tornare sul 4-3-3, con Frison tra i pali protetto dal quartetto composto dallo stesso Alvarez, le grottaie spoglie al centro e Capuano sulla fascia sinistra al posto di Marchese. In linea mediana in attacco sembra tutto già fatto e quindi a centrocampo dovrebbe esserci il classico attrito titolare composto da Lodizco e Almiron, con quest'ultimo vincitore del ballottaggio con Capitan Viaggianti. In avanti invece sulla carta all'escluso dovrebbe essere Lucas Castro, ma le condizioni di Gomez, affaticato per le numerose partite giocate in questo campionato, terranno in vita le possibilità del Pata di scendere in campo sin dall'inizio. Uno dei due quindi giocherà sul fronte sinistro dell'attacco, mentre Barrientos aggirà certamente sull'altra fascia, con Berlusci inamovibile al centro del reparto offensivo. La partita della mentalità è ciò che mi auguro perché voglio battere assolutamente il Siena. E questo è il pensiero dell'allenatore del Catania, Rolando Maran, che ha parlato questa mattina in conferenza stampa a Torre del Grifo. Dobbiamo fare una grande prestazione, vogliamo tornare alla vittoria e domani è una partita che dobbiamo cercare di fare nostra, con tutte le forze, con tutte le motivazioni, con tutta la voglia che c'è di tornare alla vittoria. Alvarez è recuperato, sì, anche Iscu, Papu ha avuto qualche problema stasettimana, vediamo un po'. Mi piace definire della mentalità, perché credo che questo va a chiudere un po' il discorso che facevo prima, credo che quando si parlava di motivazioni, di obiettivi, credo che il trovare fame, il trovare voglia, il trovare l'essere, il volere un qualcosa faccia parte di una grande crescita, cioè faccia parte della mentalità. Questa grande crescita ci dà maturità, ci dà tutto questo. Siamo un po' ingenerosi, perché io credo che con il Palermo abbiamo dimostrato di fare una grande partita, anche lì nella seconda parte siamo riusciti ad essere a Milano la stessa cosa, per cui al di là della partita di Verona, nelle ultime due, credo che la Catane ha fatto vedere di stare bene, ha fatto vedere delle buone gare, purtroppo poi i risultati, una partita per una verso, una per l'altra, non sono andati come volevamo, però è un Catane che ha dimostrato di correre, di avere motivazione, di avere voglia. Ma io me l'auguro, me l'auguro perché, come dicevi, il fatto che questo successo poi, tra le altre cose, in molte circostanze, in alcune circostanze, sia stato portato via proprio da sotto il naso, e credo che questo abbia fatto aumentare la rabbia e c'è voglia di togliersi, di mettere, da parte mia c'è la voglia di mettere questa rabbia in campo e portare a casa un risultato positivo. Mi auguro che anche i giocatori la pensino così, perché questo sarebbe già un approccio positivo.